Il tema della crudeltà dell'uomo, quando perde la ragione, ritorna sempre. Il sonno della ragione genera mostri, e non poteva mancare la mia opera della settimana. Come un prezzemolo! Noi abbiamo già trattato Goya quando abbiamo visitato la mostra a Milano, vi riporto i link. Qui Goya racconta un episodio drammatico della storia spagnola. Le truppe di Napoleone invadono Madrid, ma dopo l'uccisione di alcuni militari, i soldati francesi catturano decine di civili disarmati, li fucilano senza pietà. I militari sono ritratti di spalle, mentre le vittime sono rischiarate dalla luce di una grossa lanterna. I morti invece sono accumulati per terra nel loro sangue. L'uomo con la camicia bianca allarga le braccia invocando pietà, con un gesto che ricorderebbe la crocifissione. Sembra tutto reale! E lo è grazie alle pennellate rapide e prive di dettagli. La potenza di questo grande quadro di Goya è tale che anche Picasso l'ha ripreso. Viva la vita! Grazie! Grazie!